Il principio di inerzia si può leggere anche al contrario. Prima infatti abbiamo detto che, conoscendo la forza totale 0, possiamo dedurre che l'oggetto si muove di modo rettilineo uniforme. Leggendo al contrario, ogni volta che vediamo un oggetto che si muove di modo rettilineo uniforme, possiamo dedurre che la forza totale è 0. Per esempio, se noi vediamo questo carrello che cammina alla velocità costante di un metro al secondo, deduciamo che la forza con cui noi lo stiamo tirando, 10 N, è uguale alla forza d'attrito dinamico. Questo perché se la velocità è costante, allora deve essere 0 la forza totale. Quindi queste due forze orizzontali si devono annullare.